Per i produttori di Montefalco Enologica è la festa del vino del territorio e permette ai produttori locali, anche più piccoli, di presentarsi sul mercato. Questa enologica nasce 33 anni fa con l'inizio della valorizzazione del territorio e della denominazione e oggi tende a recuperare questa tradizione mettendo insieme macchine enologiche, saperi, ricerca, innovazione, arte, cultura, comunicazione. Un po' tutto quello che serve per poter fare bene questo mestiere dell'agricoltore, del produttore di vino, abbinandolo al territorio da cui intusiamo. Non è mai consueto per il territorio di Montefalco, 33 anni. Quest'anno è di particolare importanza proprio per l'argomento che stiamo sviluppando, quindi l'economia verde del vino. Ed è una prosecuzione di un progetto che è iniziato ormai da tre anni e che vede in questo anno proprio la certificazione delle nostre aziende dal punto di vista dell'impatto ambientale delle produzioni vidi vinicole, del risparmio quindi di prodotti che vengono utilizzati direttamente in vigna, ma anche risparmio economico e quindi sostenibilità. Il tutto assolutamente in linea con le certificazioni del nostro comune, certificato EMAS. Il vino è uno dei prodotti che sa esportare il valore dell'Umbria con una grande potenza e porta con sé la capacità di continuare a coltivare le nostre colline con vigneti, la capacità di mettere a disposizione il vino di qualità, di essere presenti quindi nei mercati internazionali e di vendere quella suggestione che porta con sé l'Umbria. Come regione ci stiamo sforzando sia attraverso l'elaborazione di un piano vino per essere più forti nella promo e commercializzazione, sia attraverso azioni con il piano di sviluppo rurale ma anche con l'Ocm vino per premiare quei territori e quei vitigni che sanno... Grazie! Grazie!